Tutto il mondo del turismo l'ha chiuso in un unico evento. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano in questa edizione 2016, una panoramica a 360 gradi sul comparto tra novità, tendenze e immancabili pilastri del settore turistico. In una occasione così importante e promettente, su cui centinaia di migliaia di operatori nazionali ed internazionali hanno deciso di puntare, non potevano mancare le mete attrattive per eccellenza, come i parchi divertimento. E in questo la Puglia, come regione di punta del padiglione dedicata all'Italia, annovera il parco brindisino Carisiland. Fresco vincitore di un importante riconoscimento, un Oscar internazionale assegnato lo scorso ottobre al parco di Cellino San Marco, presente all'interno dello stand pugliese con il direttore Marco Carisi ed il suo staff. Salutiamo tutti i telespettatori di Telebrindisi Web TV e anche noi Carisiland, come ogni anno, presenti qui alla BIT di Milano. Quest'anno è un anno importante perché il parco è presente alla BIT con un grande premio, il premio Oscar che abbiamo ricevuto presso il Prex Mania Awards, un Oscar su scala internazionale. e quindi ci dà ovviamente la possibilità di affacciarci per la nuova stagione turistica con una marcia ancora più forte. Vi aspettiamo tutti i giorni numerosi già dal 27 marzo, con la stagione primaverile e ovviamente anche dal giugno con il nostro bellissimo parco acquatico Carisiland Aquapark. Avremo tante bellissime novità che ovviamente vi faremo vedere durante la nostra stagione.